Il 19 luglio 2017 alle 4.30 del mattino, Papa Francesco ha twittato «Affido i marinai, i pescatori e tutti coloro che sono in difficoltà in mare lontano da casa alla protezione materna di Maria, stella del mare». Vi confesso che ricevo i tweet del Papa, sono sulla sua lista per vedere che cosa da dire e quando ho letto questo aveva già avuto 3.384 condivisioni, che significa che altre persone l'avevano diffuso, e 14.956 like. Quando guardo queste statistiche, devo confessare che il mio cuore precipita. Penso ai cattolici di questo mondo, che sono più di un miliardo, a cui viene insegnato questo, nelle difficoltà, nelle prove, nelle lotte, devono guardare a Maria e affidarsi a lei per avere protezione amorevole, fidandosi del fatto che lei è la stella del mare. Lasciate che vi mostri cosa da dire la Sacra Bibbia. In 1 Timoteo, capitolo 2, dal versetto 3 al 6, si parla di Dio che è il nostro Salvatore, e si dice che Lui vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Ed ecco la verità. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Il versetto 6 dice, «Il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti». Secondo la Sacra Bibbia c'è solo una persona divina, alla quale dobbiamo guardare come Mediatore, Aiutante o Salvatore. È il nostro Aiutante in ogni difficoltà. Cito, l'uomo Gesù Cristo. È questo che ci dice la Bibbia, e si è offerto in riscatto per tutti noi, per tutti i pescatori, per le persone che lavorano nell'oceano, per quelle che lavorano sulla terra ferma, per la gente in Cina, Africa, Russia, America, Canada, in tutto il mondo. Gesù Cristo stesso ha dato la sua vita in riscatto per ogni essere umano, ed è Lui che deve essere al centro della nostra attenzione. È Lui che deve stare al centro, che deve essere la persona a cui ci affidiamo con tutto il cuore in mezzo alle battaglie della vita. In Matteo, al capitolo 11, versetto 28, è un versetto molto famoso, ma dobbiamo rimanerne profondamente colpiti. Gesù ha detto, venite a, non a Maria, non agli uomini, non agli insegnanti o ai professori di teologia, nemmeno ai pastori, per quanto siano bravi, ma Gesù ha detto, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. E' un appello che viene direttamente da Gesù Cristo, e questo appello dimostra che è un appello a Maria, o affinché le persone guardino a Maria e si affidino a lei per avere amorevole protezione, è davvero un inganno. E' un falso insegnamento. Non è in accordo con il Nuovo Testamento. E' un insegnamento molto pericoloso. La salvezza avviene solo mediante Gesù Cristo. Nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, capitolo 22, versetto 16, ecco cosa dice Gesù in persona. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenia di Davide, la lucente stella del mattino. Papa Francesco ha detto che Maria è la stella del mare. Gesù Cristo ha detto che Lui è la lucente stella del mattino. E' Lui la stella dello spettacolo. E' Lui la stella del cielo, la stella della terra, la stella del mare, di qualsiasi cosa che c'è. In Filippesi 2, versetti 10 e 11, la Bibbia dice che un giorno, nel nome di Gesù, si piegherà ogni ginocchio delle creature, o cose celesti, terrestri e sotterranei, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Non vedo l'ora che sia quel giorno. Voglio inginocchiarmi e dare gloria a Gesù Cristo, mio Salvatore, mio Signore, dicendo che Lui è tutto per me, ed è l'unico che può portarmi fino al trono di Dio, e anche voi. In questi ultimi giorni della storia prima del ritorno di Gesù, in questi ultimi giorni, difficoltà e di prove, di conflitti e tentazioni, inganni diffusi che vengono twittati e rituitati, ascoltati alla radio e alla televisione e in tutto il mondo, affidiamo la nostra vita e il nostro cuore a Gesù. Focalizziamo la nostra mente su di Lui, sul Suo amore immutabile per ciascuno di noi, sulle Sue infinite risorse per aiutarci con i nostri problemi, sul Suo fervente desiderio di perdonare ogni nostro peccato, dandoci la Sua forza onnipotente che ci fa vincere contro Satana, contro l'ego, contro il peccato e la tentazione. Ora che ci avviciniamo alla crisi finale, non fatevi ingannare, affidatevi a Gesù per avere la Sua amorevole protezione e siate desiderosi del Suo ritorno a breve.